Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale! L'emozionante serie Terra Amara continua ad affascinare il pubblico con la trama che si sviluppa incessantemente nella settimana dal 28 agosto al 1 settembre 2023. In questo segmento, il focus è puntato su Mushgan, che si prepara a compiere un atto dirompente che rischia di gettare nell'incertezza le sorti del piccolo Kerem Ali. Nel frattempo, i riflettori rimarranno puntati sulle vicende che ruotano intorno alla sua presunta gravidanza, un nodo centrale del recente svolgimento degli eventi. Tuttavia, per comprendere appieno le intricanti sfumature di questa situazione, è necessario fare un passo indietro e riprendere da dove ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio di Terra Amara. Le tensioni sono palpabili e i sentimenti sono a fior di pelle. Yilmaz, travolto dalla gelosia, ha il coraggio di affrontare Zuleya, porle delle domande incisive, e richiedere spiegazioni sulla natura dei suoi rapporti attuali con Demir. Questo momentaneo ritorno al passato ci ricollega a un periodo di tensione e incertezza, segnato da sospetti e domande irrisolte. La gelosia di Yilmaz rivela quanto sia fragile l'equilibrio tra le relazioni amorose e la complessità delle emozioni coinvolte. L'atmosfera si infiamma ulteriormente, quando Zuleya è chiamata a rispondere alle accuse di Yilmaz, una dinamica carica di sospetti e dubbi che tiene lo spettatore avvinto alla trama. E proprio quando sembra che le acque si stiano calmando, la situazione prende una svolta drammatica. Mugan, con una mossa audace e inaspettata, crea una svolta che minaccia di cambiare il corso degli eventi. L'anticipazione si accumula, e noi spettatori siamo seduti sull'orlo delle sedie mentre la suspense raggiunge il suo culmine. Dopo aver casualmente ascoltato una conversazione tra Zuleya e Yilmaz, Mugan si trova coinvolta in un intreccio di menzogne e sentimenti feriti. Attraverso un'incredibile astuzia, finge di incontrare casualmente Zuleya in una farmacia e in un momento di impulso svela una notizia scioccante. Aspetta un bambino. Questo annuncio improvviso sconvolge il delicato equilibrio delle relazioni presenti nella trama, in particolare quella tra Zuleya e Yilmaz. L'annuncio della gravidanza di Mugan mette a nudo la fragilità dei rapporti già tesi tra i personaggi. Yilmaz, travolto da una miscela di gelosia e sconcerto, reagisce in modo impulsivo. Sconvolto dalla notizia, è convinto che lui non possa essere il padre del bambino. Invece, Mugan rivendica con determinazione che tra loro due c'è stato un rapporto intimo, una notte in cui Yilmaz era tornato ubriaco e quindi incapace di ricordare l'accaduto. La tensione raggiunge il culmine quando Ali Ramet, figura rispettata nella trama, interviene per richiamare Yilmaz alle sue responsabilità. Il suo comportamento viene giudicato inaccettabile poiché minaccia l'onore di sua moglie, gettando ulteriori ombre sulle loro dinamiche familiari. Nel frattempo, Akaya ritiene che Fikret sia responsabile di questa situazione esplosiva e arriva persino a minacciarlo con una pistola, sottolineando che stare con Mugan mette a repentaglio il suo onore. Fikret, un personaggio notoriamente ambiguo, cerca di mediare la situazione, ma la tensione rimane palpabile. Nel frattempo, Ghaffur è impegnato in una lotta interna, desideroso di evitare le conseguenze del suo passato oscuro, in particolare l'omicidio di Hatip, e pensa persino di fuggire all'estero per sfuggire al processo. Lunedì 28 agosto 2023, Yilmaz è infuriato e disperato, sospettando che Fikret abbia sconvolto la fragile pace che ancora resta. Mentre la situazione si fa sempre più critica, Mugan, in un momento di audacia, giunge inaspettatamente sul luogo e fa una rivelazione che scuote il terreno sotto i piedi di tutti. Nella confusione generale, Mugan affronta Yilmaz con una notizia incredibile. La sua gravidanza è una menzogna. La verità emerge in una serie di parole che squarciano l'aria e sconvolgono l'equilibrio fragile tra i personaggi. Il nipote di Fekeli, figura di riferimento, non ha nulla a che fare con questa situazione intricata ed inquietante. La rivelazione di Mugan getta un'ombra di dubbio su tutto ciò che era stato creduto fino a quel momento. Raccontando di aver falsificato il test di gravidanza utilizzando le urine di una paziente, rivela di aver preso questa decisione drastica quando ha scoperto quanto Yilmaz fosse disposto a sacrificare pur di stare con Zuleya. L'onda di sconvolgimento si trasforma in una tempesta di emozioni quando Yilmaz è investito da una furia travolgente. L'accusa di tradimento e il tradimento stesso da parte di Mugan lo gettano in un turbinio di dolore, rabbia e confusione. Nonostante la sua rabbia, Yilmaz non può ignorare il cuore infranto di Mugan e la costringe a fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. La reazione di Yilmaz ha un effetto domino, portando Mugan a fare un passo doloroso verso la redenzione. Obbligata da Yilmaz, si reca da Zuleya e rivela la scioccante verità. La gravidanza è stata solo un inganno. Le parole si consumano nell'aria carica di emozioni scuotendo la base stessa delle relazioni di tutti i personaggi. La scena si conclude con un'ultima richiesta inderogabile da parte di Yilmaz. Mugan deve abbandonare Kukurova e tornare a Istanbul e sua zia Behice dovrà accompagnarla. Questa decisione crudele e dolorosa mette Mugan di fronte a un bivio impossibile. Restare con suo figlio o obbedire al volere di Yilmaz. Martedì 29 agosto. La storia di Mugan si dipana ulteriormente quando Ali Rahmet, figura rispettata e autorevole, prende una decisione drastica. La sua ripulsa per le azioni di Mugan lo porta ad un punto di svolta. La ripudia come figlioccia per aver ingannato tutti. Tuttavia, Ali Rahmet dimostra la sua umanità quando esprime un disaccordo marcato nei confronti della soluzione proposta da Yilmaz. La tensione cresce quando la possibilità di separare Mugan dal suo bambino si fa strada nella trama. Ali Rahmet riconosce che privare Mugan della sua maternità sarebbe un'ingiustizia e un dolore immenso. La situazione assume una svolta inaspettata quando Fekeli, figura paterna e sagace, interviene con una mossa rischiosa ma carica di speranza. Fekeli offre un rifugio temporaneo a Mugan e Behice in una delle sue piccole proprietà. Questo rifugio offre un respiro e un luogo in cui riflettere, mentre le acque agitate delle emozioni si calmano. Durante questo periodo di isolamento, Fekeli fa un appello a Mugan affinché riconquisti la fiducia di Yilmaz, sperando che questa pausa possa aprire una via per la riconciliazione e permettere a Mugan di restare accanto al suo bambino. Tuttavia, Fekeli non nasconde le sfide che li attendono. Nonostante la speranza, avverte Mugan che probabilmente dovrà affrontare il difficile passo di concedere il divorzio a suo marito, un segno di realismo che mostra la complessità dei sentimenti e delle decisioni che si intrecciano nella trama. Nel frattempo, Demir, anch'esso coinvolto nelle trame complesse della storia, è scosso dalla rivelazione che Yilmaz ha condiviso con Zuleyha. L'impatto di questa rivelazione continua a crescere quando Demir, in una notte di sconvolgimento, si avventura alla ricerca di Zuleyha. Convinto che la troverà in una casa, si imbatte invece in una situazione completamente diversa. Gulten e Chetín sono lì al posto di Zuleyha e Yilmaz, innescando una serie di domande e dubbi. Mercoledì 30 agosto 2023, la giornata si apre con un ritorno a casa e un confronto carico di tensione tra Demir e Zuleyha. Demir rimprovera la sua sparizione improvvisa, alimentando la confusione e le inquietudini. Ma Zuleyha, seguendo i consigli saggi di Sevda, trova la forza di confessare la verità a Demir. Con il cuore in gola, rivela di essere stata in compagnia di Yilmaz, l'uomo che ha amato e continuato a frequentare. La verità scuote Demir, ma la sua risposta è una sorprendente ammissione di sconfitta. Realizzando di aver perso per sempre la sua amata Zuleyha, batte ritirata, riconoscendo che il loro legame è stato infranto oltre ogni riparazione. Intanto, Fekeli, figura paterna e saggio, decide di prendere una decisione simbolica e significativa. Incarica un pittore di creare un ritratto di Hunkar. Questo atto riflette il desiderio di Fekeli di preservare il ricordo di un amore che ha segnato profondamente la sua esistenza, incanalando sentimenti e valori che sono rimasti intatti per oltre quattro decenni. Questo gesto fa riflettere sia Yilmaz che Fikret, mostrando quanto sia potente l'amore che può resistere al tempo e alle prove della vita. Parallelamente, le sofferenze di Mujgan si approfondiscono. Il suo desiderio di poter stare accanto al suo bambino, Kerem Ali, è palpabile. Si rivolge a Zuleyha, supplicandola di intercedere presso Yilmaz per ottenere questa opportunità. Le sue parole sono cariche di dolore e di un ricordo di sofferenza passata quando è stata allontanata da suo figlio Adnan e sua figlia Leila. La preghiera di Mujgan mette in evidenza la sua vulnerabilità e il suo desiderio di poter vivere un legame materno reale. La trama prende una piega inaspettata quando Zuleyha ottiene da Yilmaz il permesso di far stare Mujgan insieme a suo figlio. Tuttavia, le speranze si infrangono quando le cose non vanno come previsto. Mujgan, invece di rispettare l'accordo, tenta di fuggire con il bambino, portando la tensione a un nuovo livello. Giovedì 31 agosto 2023 Mujgan, intravedendo Zuleyha che la insegue, decide di affrontare un gesto audace e disperato. Senza esitazione, si getta nel fiume e tenta di attraversarlo, portando con sé il prezioso carico di Kerem Ali. Mentre l'acqua fredda e tumultuosa minaccia di divorarli, la tensione raggiunge il culmine. Tuttavia, la cesta che contiene Kerem Ali scivola dalle mani di Mujgan, sconvolgendo ulteriormente una situazione già critica. Il bambino è ora a rischio, minacciato dalle onde che sembrano desiderose di inghiottirlo. La lotta tra la sopravvivenza e le forze implacabili della natura si intreccia con le emozioni travolgenti dei personaggi. La scena si trasforma in un atto di eroismo quando Zuleyha, guidata da un impulso di protezione materna, si getta coraggiosamente nell'acqua in tumulto. Con la forza di un amore senza limiti, Zuleyha rischia tutto per salvare sia il bambino sia Mujgan dalla corrente implacabile. La sua azione eroica è tuttavia offuscata dalla consapevolezza che la dottoressa ha messo a repentaglio la vita di suo figlio, un gesto che rimarrà impresso nella memoria. Le conseguenze di questo atto drammatico risuonano nell'aria densa di tensione. Yilmaz, dominato dalla paura e dalla rabbia, espelle il suo sdegno su Mujgan, accusandola di aver manipolato Zuleyha per rapire il bambino. L'accusa tagliente fa emergere dubbi sulle intenzioni di Mujgan e scuote i legami tra i personaggi. La trama si intreccia ulteriormente quando Akaia, spinto dal timore di una Mujgan potenzialmente pericolosa, fa un passo in avanti. Offre alla dottoressa di tornare a casa, nella speranza di ottenere il divorzio da lei. Questo gesto mette in luce la complessità delle relazioni interpersonali, dove l'amore, la paura e il desiderio di controllo si mescolano. Nel frattempo, Ali Rahmet accoglie Behice, ma non senza mettere in guardia sulle sue intenzioni. La sua percezione di un interesse predominante nei soldi fea emerge da un lato oscuro e ambiguo della figura di Behice. Nel frattempo, Fekeli offre una soluzione, suggerendo che lei torni a Istanbul e riceva un mantenimento mensile da lui. Questa proposta mira a deviare i piani dubbi di Behice e a mantenere una tregua tra i personaggi. Venerdì 1 settembre 2023, l'attenzione si sposta su Saniye, le cui intuizioni la conducono sempre più vicino al segreto celato da Gaffur. Le sue sospette sono confermate dall'atteggiamento riservato di quest'ultimo, che sembra nascondere qualcosa di profondo. Nel frattempo, Gaffur è intrappolato in un conflitto interno, cercando disperatamente un modo per sfuggire alle conseguenze dell'omicidio di Atip. La sua mente trabocca di pensieri e strategie per eludere la giustizia, creando un intrigo ancora più denso. Nel frattempo, il destino si mescola agli oggetti materiali quando Rasit, nella sua ambizione di amore, acquista un anello di fidanzamento per Fadik. Tuttavia, il destino ha altri piani quando l'anello finisce nelle mani sbagliate. Azize. La donna, plasmata da una realtà che si intreccia con il passato, crede erroneamente che l'anello sia un regalo da parte di suo marito, che anni prima ha perso la vita. Questo equivoco provoca un ulteriore tassello nell'intricata trama, mentre Rasit tenta disperatamente di recuperare ciò che è suo. La trama si fa ancora più intricata quando Fikret fa una scoperta che getta luce sul passato di Yilmaz. La rivelazione che Yilmaz aveva passato tutti i suoi averi ad Unkar suscita domande e confusione, con Fikret che cerca di capire il motivo dietro questa mossa, non sapendo che in quel periodo Akaya era sicuro che di lì a poco sarebbe fuggito con Zuleyha. Nel mondo dei coniugi, la trama si arricchisce di un'altra sfaccettatura, quando Demir scopre che Zuleyha ha rivelato a Yilmaz la sofferenza che lega entrambi i loro matrimoni. La sua decisione di non fare del male a Mujgan riflette un'umanità e una compassione sorprendenti. Demir si confronta con una realtà dolorosa, ha perso Zuleyha per sempre. Questo incontro con la verità si svolge sotto gli occhi vigili di Sevda, che condivide un momento di intimità e comprensione con Demir. Le emozioni in terra amara si stagliano in tutto il loro splendore, rivelando strati profondi e complessi nei personaggi. I segreti e le rivelazioni che emergono fanno emergere le paure, le speranze e le debolezze dei protagonisti, creando una trama che tiene il pubblico con il fiato sospeso. Nel tessuto intrecciato della storia, ogni azione e ogni decisione contribuiscono a modellare i destini dei personaggi e a costruire un intreccio irresistibile. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi che conseguenze avrà questo gesto di Mujgan? Finalmente la donna concederà il divorzio? A voi i commenti. Grazie, a presto!